Verbania e Mergozzo unite da una nuova pista ciclopedonale. Nelle prossime settimane i due comuni sottoscriveranno con la provincia, ente di coordinamento, il protocollo d'intesa per avviare progettazione e realizzazione di un tratto del più ampio progetto di ciclovia del Lago Maggiore di cui si parla da qualche anno. È stato individuato lo studio di ingegneria del Torinese che si occuperà della progettazione, alla quale i due comuni e l'ente provinciale compagni... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.